Buonasera a tutti! Allora, siamo partiti con la Leopolda numero 11 e chi l'avrebbe mai detto sulle note di «sono un ragazzo fortunato» e quando vedo tante persone, tante donne e uomini che, come noi, condividono l'emozione di stare insieme per un valore grande la politica, io credo di poter dire che sono un ragazzo molto fortunato. Questa fortuna deriva innanzitutto dall'avere tante persone con cui stare insieme.